Avevamo detto che non sarebbe stata una cerimonia senza emozione e senza contenuto e come il nostro Presidente prima ci ha anticipato, un progetto come questo poggia su tante cose e il lavoro della collaborazione di tanti soggetti, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. Le istituzioni ci hanno creduto, ci continuano a credere e quindi vogliamo ringraziare per la costante presenza e per la partecipazione lo Stato e la Regione che sono presenti oggi qui nella figura della senatrice Donnella Mattesini e dell'assessore Vincenzo Ceccarelli. Quindi la senatrice Mattesini ci porta il saluto, grazie. Buonasera a tutti e ragazzi benvenuti, mi metto di qua che non voglio girare le spalle a nessuno. Non c'è mica molto da dire perché siccome si cresce e si impara per emozioni penso che le cose che abbiamo ascoltato l'ultimo video hanno già detto tutto. Io mi sento solo dire questo, Franco ha detto una cosa che mi convince profondamente bisogna parlare di adulti, non di giovani perché si cresce per esempio e non si cresce soltanto per le parole, per le prediche, si cresce sulla base di ciò che ci circonda sicuramente i ragazzi, per le cose che hanno detto prima rispetto a queste tre settimane e quello che abbiamo visto dai ragazzi l'anno scorso ci dicono esattamente questo ci dicono che a seconda di là dove ci si trova, se un ambiente, un luogo, che sia una famiglia che sia un gruppo di amici, che sia una comunità più grande dove si cerca e si praticano quei valori della solidarietà, dell'ascolto, della libertà si ha esattamente questo, si ha la libertà di cercare se stessi senza paura di dover aderire a un'idea di noi che deve corrispondere all'idea che gli altri vogliono avere di noi quindi è un luogo di libertà, il luogo nel quale sicuramente questa consapevolezza di sé questo scegliere chi essere, ma esserlo non da soli, esserlo sulla base di un confronto di un ascolto che ci aiuta anche a superare quei pregiudizi, quegli stereotipi mi ha colpito moltissimo quando ci hanno illustrato appunto il risultato della ricerca e dice non lo cercavamo, mi è venuto fuori la questione del classico, dello stereotipo appunto tra maschi e femmine, quanto quando ci sono questi stereotipi che non si affrontano quanta vita ci perdiamo, quanti conflitti alimentiamo dentro di noi e dentro gli altri quindi non ho molto altro da aggiungere, se non che come dicevo con Franco perché davvero qui ci avete testimoniato un altro modo, il modo giusto di fare scuola dove ognuno ha il suo ruolo ma come dire ci sono le materie da imparare ma c'è soprattutto la vita da scoprire, da scoprire noi stessi quindi io per quello che posso nel mio ruolo di parlamentare ma il ministro come dire c'ha già come in certissime un altro una grande attenzione però penso che sarà importante provare anche durante l'anno per esempio tra tutti coloro che sono i colleghi che si occupano di scuola, di Camera e Senato vengano a rondire, tocchino con mano perché noi stiamo approvando i nostri insegnanti e residenti scolastici la riforma della buona scuola e penso che una piegatura intorno ai risultati che qui avete testimoniato possa essere e debba essere in qualche modo di tempo da fare quindi grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto che l'hanno sostenuto, che lo sostengono grazie ai ragazzi e alle famiglie che ci hanno tanto investito che ci accompagnano e grazie anche a tutti i volontari perché rondine anche tanto volontariato, insomma anche tanto volontariato di amicizia quindi grazie perché questo territorio ne ha guadagnato tantissimo ma io penso che la contaminazione che viene fuori sa quello che è stato intanto internazionale che con appunto il liceo, come si chiama, il liceo speciale parto di liceo, l'eccellenza sia ancora una volta una, proprio quella contaminazione quindi grazie di tutto perché è un regalo preziosissimo il lavoro che avete fatto, quello che però dobbiamo fare insieme io non ho la sua responsabilità grazie grazie senatrice allora la sessione Ceccarelli grazie, buonasera a tutti buonasera soprattutto a voi ragazzi io sono Vincenzo Ceccarelli, vengo da Castel San Nicolò e vorrei anch'io vedendo il vostro entusiasmo venire a rondine, ho l'impressione di non avere più l'età e penso che Franco Valcari e i cli non mi ci vorrebbero beh, fatte le battute io sono di quelli che ha visto nascere rondine è una grande soddisfazione vedere l'evoluzione che c'è stata e vedere che da quella che sembrava un po' l'idea di un visionario o poco ci manca invece è nato questo studentato in questa campagna toscana che sicuramente è un luogo propedeutico perché già uno quando si avvicina qui inizia a riconciliarsi a mettersi un po' in pace con se stesso però rondine ovviamente come veniva detto vuol guardare al mondo vuol preparare persone che siano capaci di portare nel mondo c'è una visione, una capacità di ascolto, di integrazione, di contaminazione che superi l'ego, che superi l'io e che invece partendo dal cambiamento di ognuno di noi poi dia un grande contributo al cambiamento delle cose e credo ce ne sia un grande bisogno perché se guardiamo quello che succede nel mondo e quello che succede vicino a noi prima Franco faceva riferimento ai Balcani io l'ultima volta sono stato in Bosnia l'anno scorso e ancora in Bosnia parlano di guerra sospesa quindi per dire qual è il clima quindi credo che veramente ciò che avviene a rondi attraverso lo studentato internazionale ma anche attraverso queste classi del liceo che dall'anno scorso hanno iniziato questo bel esperimento che anch'io spero possano fare da battistrada per una riforma della scuola italiana perché penso che se esperienze come queste ovviamente non uguali a queste possono trovare spazio e cittadinanza nella scuola credo che gli obiettivi di rondine possono essere veramente portati avanti da tante altre persone però ecco dicevo mi ricordavo Franco che sono passati 18 anni questi 18 anni di strada ne è stata fatta tanta tante rondini d'oro sono in giro per il mondo attraverso lo studentato internazionale mi sembra di capire che ognuna di loro comunque mantiene un legame forte e stretto con questo luogo e sono contento che anche chi ha frequentato la classe speciale del liceo poi si definisce rondine d'oro quindi queste rondini credo che veramente diventano uno stormo sempre più grande il mio augurio è che anche voi possiate vivere questo anno e arrivare in fondo raggiungendo gli obiettivi che vi siete dati e che avete qui manifestato nel vostro breve saluto credo che ne abbiamo bisogno tutti ne ha bisogno il mondo e credo che dire questa parola il mondo non sia comunque fuori luogo se no uno potrebbe dire ma che voi questi si occupano del mondo io penso che oramai veramente il mondo è strettamente interconnesso quello che succede in tutte le parti del mondo ci tocca da vicino e forse ognuno di noi ma insieme può fare qualcosa per migliorare questo mondo quindi buon viaggio verso questa utopia concreta ho visto questa parola questa parola scritta da qualche parte ma vi garantisco che per raggiungere un'utopia concreta siete nel posto giusto buon viaggio da voi allora grazie alla senatrice e all'assessore regionale per questo messaggio di fiducia che ci portano oggi qui e un progetto come questo un progetto come quello del quarto anno liceale d'eccellenza è stato protocollato insieme al ministero dell'istruzione alla regione toscana il ministero per l'istruzione l'università e la ricerca ha infatti approvato il progetto e lo segue con estrema attenzione come laboratorio da cui attingere buone pratiche innovative quindi anche un motivo d'orgoglio e poco prima il presidente ci ha portato appunto il saluto del ministro Giandini e teniamo a salutare con affetto anche il consigliere del ministro per le politiche europee il dottor Angelo Boncompagni e anche l'ufficio scolastico regionale per la Toscana sostiene fortemente questo progetto istituendo un comitato scientifico a garanzia della qualità formativa e quindi io chiamo sul palco il dirigente Roberto Curtolo dell'ambito territoriale della provincia d'Arezzo ok allora oggi è la giornata dei ragazzi quindi non devono parlare gli adulti e la loro giornata io faccio a loro in bocca al lupo voglio garantirvi che le istituzioni del territorio sono tutte a vostra disposizione perché voi siete sì nella campagna toscana come diceva l'assessore Ceccarelli ma siete in una particolare località che per il sistema di relazione il mondo in cui è è il centro del mondo voi siete al centro del mondo e al centro di questo mondo siete chiamati a relazionarti ad operare a costruire il vostro futuro e quello delle comunità nelle quali rientrerete quindi in bocca al lupo per questo perché è una responsabilità di non poca importanza e vorrei anche tranquillizzare se voglio dire le vostre famiglie che sono qui presenti che veramente la città di Arezzo e tutto l'ufficio scolastico regionale hanno costruito una rete l'hanno costruita con i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali agite che mettono a disposizione gli insegnanti e la rete di sistema nella quale siete inseriti e vi consente di essere qui ora e a proposito di insegnanti comunque battuta non so se Franco Valcari si è reso conto di una frase che ha detto ha detto qui gli insegnanti fanno gli insegnanti ed è una cosa importantissima nel bene e nel male perché praticamente ha detto che gli insegnanti qui possono riacquistare quella che è la loro dimensione vera la dimensione magistrale che esce dalla funzione burocratica dalla funzione prettamente ragionieristica della valutazione del voto per entrare in quella che è la dimensione del magista di quello che conduce porta i ragazzi in un percorso lungo un percorso è il loro coautore è il coautore di ciò che loro fanno della loro vita è in questo passaggio importante quindi in bocca al lupo a voi e in bocca al lupo ai vostri insegnanti e ai presidi che sono coinvolti in questo progetto grazie a tutti e grazie a voi grazie grazie richiamava il valore della territorialità e infatti è fondamentale la rete scolastica e la collaborazione proprio che c'è l'impegno di alcune scuole della provincia d'Arezzo questa rete ha stipulato diciamo un patto con l'associazione rondine che permette di garantire oltretutto anche i piani ministeriali a tutti gli indirizzi liceali presenti nel vostro anno di percorso la rete delle scuole è garanzia di riconoscimento come percorso di sperimentazione per l'innovazione didattica ricordiamo quindi il liceo classico Francesco Petrarca il liceo scientifico Francesco Redi l'ITIS Galilei il convito nazionale Vittorio Emanuele II e io chiamo il dirigente scolastico del liceo Vittoria Colonna di Arezzo Maurizio Gatteschi titolare proprio della sperimentazione presso il NUR e capofila di questa rete eccezionale di questo lavoro tra scuole grazie con i ragazzi ci siamo già benvenuti ci siamo già conosciuti vi confesso da qualcuno mi ha detto visto che ci sono i genitori entri in un argomento che garantiamo che quando finisce quest'anno sono qualitativamente dei ragazzi ben formati non credo che io debba dare rassicurazioni in questo senso con quanto è stato detto con quello che ha già detto il vostro rappresentante aumentare quello che abbiamo visto anche nel video e tutte le altre testimonianze non credo che ci sia particolarmente bisogno direi che la scelta è franco quest'anno è già diversa perché l'anno scorso insomma c'erano era molto più eterogenea come presenza dei studenti molto più creste colorate però devo dire che devo dire che dovevate vedere quando è finito questo questo anno l'anno zero come questi ragazzi erano diventati veramente una crescita impressionante il rapporto alla temporalità e quindi vi auguro che così sia anche per voi per quel che riguarda scolasticamente è vero non facciamo sconti però è vero anche che noi cerchiamo di valorizzare le inclinazioni di ciascuno di voi per cui in una scuola d'eccellenza come quella di Rondine non ci sarà lotto garantito assolutamente non c'è stato negli anni passati e i docenti in questo senso sono concordi nelle loro valutazioni eppure tutti coloro che sono usciti hanno ripeto hanno vissuto un ambiente e una crescita personale incredibile che oggi li porta ad essere le rondinelle quindi portare in giro la testimonianza del valore di questa iniziativa poi che si voglia allargare questa sperimentazione all'ordinamento italiano ben venga forse riusciremo ad avere degli insegnanti meno legati agli impegni burocratici diciamo così più magiste nel vero senso della parola e comunque sia devo dire che tutti coloro che voi vedrete di fronte a voi vivono questa esperienza in maniera gioiosa e questo è importante e ve lo trasmetteranno sicuramente ringrazio come capofila tutti i miei colleghi che al solito condividono questa esperienza che anche loro si danno da fare perché abbia successo ringrazio Spinella se mi permetti Franco anch'io spendo una parola di ringraziamento per Spinella con la quale ogni tanto confesso abbiamo divergenza di vedute il conflitto che però si risolve si risolve e quindi grazie Spinella per il resto un augurio ancora di buon anno scolastico io sono venuto il primo giorno vi ho portato l'esempio della vita militare volontariamente vi ho lasciato così bazze che cadevano in terra come si dice dove siamo finiti eppure forse vedrete già mi avete detto che si stanno risolvendo stanno nascendo amicizie ed è quello che io in fondo il mio discorso auspicavo come capito comunque noi ci siamo sempre come scuola capofila come le altre scuole per cui potete sempre contare su di noi grazie grazie